Vendo l'area della Toscana, operativi dal 20 ottobre nella stazione di Lignano sull'Arno Reggello due nuovi ascensori che collegano il sottopasso viaggiatori al secondo marciapiede e alla piazza antistante. Con una portata massima di 630 kg, 8 persone, due ascensori contribuiranno all'abbattimento delle barriere architettoniche della stazione e consentiranno a tutti di usufruire dei servizi ferroviari dai per Firenze e Valdarno Arezzo. Inoltre i due ascensori si inseriscono nel percorso pedonale del binario 2 che permetterà di collegare direttamente, senza limiti di accesso, il centro del paese all'area degli impianti sportivi di Via Roma. I lavori sono stati portati a termine da RFI che ha stanziato 360.000 euro e da Comune di Lignano, ognuno per le sue pertinenze. Il rinnovamento della stazione si inserisce in un più ampio progetto che coinvolge la riqualificazione di Piazza della Repubblica nell'ottica di migliorarne il decoro, la bellezza e la sicurezza. Il rinnovamento della stazione si inserisce in un'ottima